Allora, testimonianza che sarà praticamente identica in tutte le città d'Italia, quindi sarà un video inutile, ma volevo testimoniarlo. Allora, ho tre impegnative, ho chiamato oggi, mi sono fatta forza, anche se le impegnative sono del 7 di ottobre e del 29 di ottobre, ma ho detto vabbè, avevo questo moto di coraggio e ho prenotato oggi. Allora, la prima era una visita oculistica, prima visita, primo accesso, programmabile, mi è stato detto che il primo posto libero era, quindi programmabile senza urgenza, il primo posto libero era a settembre del 2022 nell'ospedale della mia città, ho chiesto magari un pochino prima, in una città vicina a giugno del 2022, a questo punto l'ho accantonata, ho detto vabbè, faremo in un'altra maniera, andremo privatamente. Se non che poi gli è venuto un lampo di genio e la poteva prenotare a un'ora di strada da qui, in un'altra provincia, cioè quindi in provincia di Como, a un'ora di strada da qua, quindi dovevo fare un'ora, fare la visita e poi un'ora per tornare, questo è, e andavamo a fine novembre. Poi qui ha sbagliato la mia dottoressa, quindi una non la consideriamo, perché praticamente era già dentro qua, però vabbè, la seconda, questa è ancora più divertente, perché questa ha la prescrizione con priorità entro dieci giorni. Allora, discorso qual è stato? Che praticamente loro possono prenotare, visto come io ho la priorità, ho la priorità, giusto? Quindi, cosa succede? Teniamo bene conto. Allora, in pratica oggi è il dieci, avremmo la priorità per dieci giorni, quindi entro il venti dovrebbero prenotare, ma loro entro il venti non ce l'hanno le date, ce ne hanno una al ventitré di data, ok? Però mi dicono, siccome però tu hai la priorità a dieci giorni, il primo posto disponibile c'ho il ventitré, e io non te lo posso fare, perché ho due giorni di tolleranza, però fino al ventidue, quindi ho due giorni di tolleranza, dal venti si sposta al ventidue, al ventitré mi rimane fuori, giusto? Quindi tu dovresti chiamare tra uno o due giorni per vedere se questa data ce l'ho ancora disponibile, che nel frattempo ovviamente non ce l'avrà disponibile. Se no, cosa puoi fare? Cioè, perché loro non possono prenotarmi lo stesso, no? Anche se io rinuncio alla priorità, loro non possono farmi rinunciare alla priorità e prenotarmi il ventitré. Beh, ma io dico, ma... No, cosa devi fare? Devi scaricarti sul cellulare l'app Zero Coda. Pensa a te. Ti scarichi l'app Zero Coda sul cellulare, prenoti una prenotazione allo sportello, quindi stai prenotando non la prenotazione alla visita, ad andare a chiedere allo sportello la possibilità di prenotarti una visita. Vai allo sportello, tendo che era scaricato, app Zero Coda, e allora a quel punto vedono allo sportello se riescono, se, però non è detto, perché queste poi date che lei ha trovato potrebbero non esserci, oppure potrebbero non poterlo prenotare, perché non potrebbero forzare la questione dei dieci giorni. Quindi, ci vuoi provare, ma non si sa. Se no, l'alternativa è richiamare tra due giorni e sperare che queste date 23 e 24, che lei aveva disponibile, siano ancora disponibili. O altrimenti, senza considerare questa entro dieci giorni, si può prenotare ad agosto. Non il 23 e 24, questi di novembre che sono liberi, no, perché tu hai rinunciato alla priorità. Quindi, con il 23 e 24, che non puoi prenotare se hai la priorità, perché ce l'hai per dieci giorni, non le puoi prenotare neanche se rinunciare alla priorità, perché se rinunciare alla priorità devi prenotare ad agosto. Io vi saluto. Dal Regno dei Matti è tutto. Ciao. Ovviamente andrò a farmi una, due, tre, privatamente, che devo fare. Chiaro, no? Ciao. No.